Troppo buona la zuppa di lenticchie e patate? È facilissima e anche velocissima. Prepariamole insieme. Pela e taglia a cubetti le patate e poi mettile da parte. Adesso sciacqua le lenticchie sotto l'acqua corrente. Versa in una pentola piena d'acqua, aggiungi la carota, la cipolla, la pastata di pomodoro e del sale. Mescola e copri con il coperchio e fa cuocere per circa 20 minuti. Poi aggiungi le patate, mescola e fai cuocere per altri 20 minuti circa. Poi qualche minuto ancora senza coperchio, in questo modo la zuppa diventerà più cremosa. Quando le lenticchie sono pronte, servile. Aggiungi un filo d'olio e i crostini di pane. Buon appetito amici! Ciao!